Huawei è tornata e il simbolo di questo ritorno è Huawei Nova 9, è tornata nel mondo degli smartphone visto che altrove non se n'era assolutamente mai andata. Scopriamo questo nuovo ritorno con tutte le differenze rispetto a uno smartphone non Huawei sempre con Android e ricordatevi che se volete vedere altre recensioni come questa l'unico modo è di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche. Vi ho mentito, non è l'unico modo ma è quello migliore. Non ci può essere una bella recensione senza un bel unboxing quindi andiamo a scoprire cosa c'è all'interno della confezione di Huawei Nova 9 lo smartphone che mettiamo da parte poi abbiamo una scatolina e allora vediamo che al suo interno c'è una ghiottissima perché è una gran comodità avere una coverina seppur in silicone semplice così già all'interno della confezione e poi ovviamente abbiamo il cavo USB USB-C che non sto neanche a farvi vedere ma sto invece a farvi vedere e mi soffermo su questo Huawei Supercharger che offre quindi la Supercharge come chiama Huawei da 66W con porta USB ma vabbè perdoniamo Huawei perché questa è veramente una bella cosa da trovare in confezione. Eccolo qui quindi Huawei Nova 9 con questo scioglilingua e con questo design devo dire che mi piace, devo dire che mi piace non è la mia volta che lo vediamo perché abbiamo già recensito Honor 50 è molto molto simile per non dire praticamente identico qui abbiamo un profilo in plastica che è molto sottile perché il vetro posteriore e quello frontale vanno a rastremare visto che sono curvi sul bordo che è molto molto sottile. Leggermente sporgente questo modulo delle fotocamere che contiene come vediamo quattro sensori totali, qui si allarga un po' il profilo in plastica per il tasso di accensione bilanciale del volume sopra il secondo microfono, sotto la porta USB-C lo speaker, il primo microfono e il carellino per la doppia nano SIM purtroppo lo vediamo non c'è il jack audio da 3,5. Le dimensioni sono 160x73,7x7,8 mm per un peso di solo 175 grammi che devo dire sono pochi, lo smartphone è leggero e molto piacevole da utilizzare quotidianamente molto bello questo vetro posteriore, trattiene praticamente zero le impronte digitali e qui c'è il marchio Nova con il logo dell'azienda che invece è lucido questa è una fotocamera, qui altre tre e sotto un LED flash, non so se volevano fare che sembrassero due, non lo so fatto sta che non mi dispiace, questa parte qui mi confonde un pochino di più, questa qui sotto andiamo a sbloccarlo con il lettore di impronte digitale all'interno dello schermo, lo mettiamo da una parte e vi parlo di specifiche tecniche abbiamo un processore Snapdragon 778G Octa-Core da 2.4 GHz a 6 nanometri con GPU Adreno 642L 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna purtroppo non espandibili Wi-Fi Sable 5.2, c'è il chip NFC, c'è il lettore di impronte digitale all'interno di display, ve l'ho fatto vedere c'è il supporto dual sim e non c'è il jack audio c'è il chip NFC ma ricordiamoci che al momento non c'è un vero sistema di pagamento NFC unificato sulla piattaforma di Huawei, visto che qui abbiamo e arriviamo a parlare di software una AMUI 12.0.1 basata su Android ma anzi no, non parliamo ancora di software perché? Perché prima voglio parlare del display, vi lascio un po' in sospeso il display è un ampio 6.57 pollici di diagonale Full HD Plus 1080 x 2340 pixel è un display che supporta il refresh rate aumentato in questo momento è impostato su adattivo, se non vado errato, dinamica dove in questo caso va a bilanciarsi automaticamente fino a 120 Hz si può bloccare a 120 Hz o bloccarlo a 60, quindi c'è un automatismo e devo dire che è molto fluido molto luminoso, belli colori, c'è lo Louis-On display, non so se ve l'ho già mostrato forse l'avete intravisto prima e i bordi sono leggermente curvi c'è una pellicola sopra leggermente gommata che trattiene un po' le impronte e non mi fa impazzire probabilmente sul lungo periodo preferirei levarla il display però è sicuramente uno dei punti forti di questo smartphone arriviamo adesso davvero a parlare di software, abbiamo EMUI 12.0.1 basata su probabilmente Android 11, di sicuro Android 11 ma non ci sono molte altre informazioni ci sono le patch però di settembre 2021 credo che anche qui si faccia riferimento a quelle di Android visto che poi premendo sulle informazioni si va sul sito Google, non ci sono però ovviamente i servizi di Google ci sono i servizi di Huawei con non solo appialere ma proprio i servizi di Huawei quindi per esempio il servizio di localizzazione mettiamo la modalità non disturbare così non veniamo più disturbati e dell'implementazione appunto che fanno parte della nuova EMUI non c'è ancora Harmony OS cosa vuol dire? vuol dire che se qui ci fosse Harmony OS al posto di Android l'interfaccia sarebbe probabilmente identica ma la base sarebbe diversa quindi la personalizzazione estetica sarebbe uguale la base è diversa quindi non abbiamo ancora in questo caso il nuovo sistema operativo proprio di Huawei con la nuova interfaccia abbiamo sì la nuova interfaccia ma basata su Android cosa vuol dire per l'utente finale? probabilmente quasi nulla non dovrebbe fare molta differenza visto che le funzioni dovrebbero essere le stesse in termini di funzionalità avanzate magari che non troviamo sulle versioni con Google abbiamo tutti i servizi di Huawei Assistant i Voice con l'attivazione vocale che avevo disattivato i Lens, i Touch, i Tips Search la scheda Today che è un po' il Google Discover se così vogliamo dire e anche delle applicazioni come Petal Search che ci permette di trovare le applicazioni che vogliamo per esempio queste sono applicazioni che io ho installato ma che non erano presenti sul sistema per esempio mi dice che ho un aggiornamento di Facebook mi basta andare qui oppure premere direttamente su aggiorna e quello che fa è rimandarmi direttamente al download dove poi posso aggiornare l'applicazione premendo qui sul file scaricato e installandolo è un pochino più macchinoso che passare da uno store classico sì lo è però se comunque alla fine vedete è tutto abbastanza automatico sbagliare è praticamente impossibile e ci si può convivere mettiamola così su AppGallery l'evoluzione è rapida devo dire c'è veramente ogni mese trovo varie applicazioni in più vedete anche un pochino meno mainstream Autodoc, Revolut, Replay, Amazon Shopping l'app dell'Inps, Tinder, Shane Radio DJ Radio DJ mi sa che c'è da un bel pezzo e anche Tinder insomma comunque c'è un'evoluzione plausibile sensibile ci sono anche molte app di banca magari fate un controllo se c'è anche la vostra quello che manca sono applicazioni specifiche per certi servizi per esempio un servizio di sharing oppure per un gadget che avete comprato per esempio molte possono essere installate tramite APK sempre passando da Petal Search o la ricerca di Google o quello che volete però tenete conto che la garanzia che funzionino ovviamente non ci può essere è uno smartphone per chi usa le applicazioni più comuni mettiamola così non tanto semplici, complesse più l'applicazione è comune e più è sicuro che funzioni che venga da AppGallery o che venga da Petal Search o da Google c'è Petal Maps che è il servizio Maps per MAP che devo dire è molto buono non sarà ancora Google Maps ma molto molto bene lo sviluppo una cosa che mi piace è il multitasking laterale è una funzione in cui voi tenete premuto qui appare la barra laterale dopodiché premete sull'applicazione che volete e questa va ad aprirsi in finestra no, no, in seguito oppure vi faccio vedere se la trascinate può aprirsi in split screen la trovo una bella funzione l'avevamo già vista anche sui precedenti modelli ma è una funzione che mi piace molto parliamo di fotocamere le fotocamere sono quattro come vi dicevo una principale da 50 megapixel f1.9 una secondaria grandangolare 8 megapixel f2.2 e due 2 megapixel f2.4 una per il bokeh una per la macro niente, sono inutili i sensori a 2 megapixel bocciati come sarebbe stato più bello con due cerchi grandi e magari spostare il led flash qui fuori ne avrebbe guadagnato anche esteticamente chi se ne frega delle quattro fotocamere vi prego è un marketing che ormai è morto non ce ne frega nulla del numero di fotocamere e se c'è qualcuna a cui frega dovrebbe smetterli di fregarli frontalmente invece nel foro qua sullo schermo foro non piccolissimo c'è una 32 megapixel f2.0 l'interfaccia fotografica è ovviamente quella classica di android dei disquattati di huawei su android ovviamente abbiamo android quindi così è con tasto per la grandangolare e tasti per lo zoom che come sempre adesso che sono qui calmo è molto semplice nella vita reale a volte non è facilissimo andare vedete a beccare quello che volevate eccolo qua quindi io questo sistema lo cambierei non so perché huawei si ostini modalità di tratto modalità notte vlog altro dove ci sono altre funzioni andiamo a vedere però come scatta le foto sulla modalità notte ho qualcosa da dire le foto sono ok diciamo che gli manca quel qualcosa in più che ormai gli smartphone in questa fascia di prezzo tendono ad avere non fa cattive foto però ormai la concorrenza è molto molto agguerrita anche in questa fascia e personalmente credo che insomma si poteva fare qualcosa in più da huawei sulla fotocamera ci si aspetta qualcosa in più secondo me ci poteva stare anche una fotocamera zoom dove sono rimasto un po' più deluso è dalla notturna dalla modalità notturna che non mi sembra particolarmente convincente le foto sono molto simili agli scatti non notturni e non in certi casi non sono come dovrebbero essere sono molto rossi molta luce ma poi bruciate non sono cattive intendiamoci non sono cattive foto ma se la fotocamera è la vostra la vostra preferenza principale quando acquistate uno smartphone qui si poteva fare qualcosa in più spero in qualche aggiornamento video in 4k a 30 fps non ci sono i 60 fps l'audio è mono andiamo ad aprire Asphalt 9 che è un gioco che è presente nell'app gallery di Huawei mentre il nostro classico Call of Duty Mobile non era presente quindi piuttosto che scaricare APK ho preferito passare dal canale ufficiale tra l'altro questo è proprio uno di quei giochi che sfrutta comunque una di quelle app in generale che sfrutta a dovere l'integrazione Huawei usa davvero i servizi Huawei cosa vuol dire? vuol dire che per esempio fai login invece che con play giochi che è il servizio di Google con il servizio di Huawei e si salva tutto sul cloud di Huawei ci sono varie app che hanno sostituito con semplicità perché alla fine i servizi sono anche questi non tanto le app che vanno o non vanno ma poi le cose collaterali per esempio la localizzazione l'integrazione magari con delle mappe l'integrazione col salvataggio a cloud l'audio è alto la qualità è non eccelsa devo dire va bene dai derapa tanto che per riuscire a parlare preferisco abbassare il volume e farvi vedere godere un pochino più il gioco il display arriva molto vicino a voi ai bordi anche grazie a questa stondatura Asphalt 9 dà sempre molte gioie anche se non si fa niente si riesce sempre ad arrivare in ottime posizioni soprattutto con tutti gli aiuti abilitati non è bravura ma è automatismo la batteria è una 4300 mAh non è molto capiente lo capite dal numero ma il fatto che non ci siano i servizi di Google che ovviamente offrono da un certo punto di vista di più ma hanno anche tantissimi processi in background devo dire che qui con 4300 mAh a fine giornata ci si arriva anche con un utilizzo intenso in più l'avete visto nell'unboxing è supportata la ricarica a 66 W che garantisce una ricarica completa da 0 a 100 in soli 38 minuti e siamo quindi arrivati alle conclusioni questo era Huawei 9 a 9 parliamo di prezzo il suo prezzo è 499 euro è in vendita a questa cifra su Amazon con incluse le FreeBuds Pro oppure sempre su Amazon a 50 euro in meno oppure sullo store di Huawei a 50 euro in meno e con una cover aggiuntiva ovviamente l'unico modo per avere le FreeBuds Pro in omaggio come immaginate se no non ve l'avrei neanche detto è quello di prenderlo a prezzo pieno su Amazon in questo momento questa è la promozione devo dire che il prezzo è un po' alto senza mezze misure per uno smartphone che ha una storia da raccontare una storia interessante un sistema che si sta evolvendo sebbene sia importante chiarire che non è ancora un sistema per tutti quindi dovete assolutamente valutare questa cosa si capisce però come in un mondo di smartphone Android molto affermati per convincere qualcuno a provare il nuovo sistema di Huawei e magari poi trovarci sia anche bene bisognerebbe offrire un prezzo più aggressivo secondo me il prezzo da cui partire era un centinaio di euro in meno poi magari a quel punto con promozioni e regali per invogliare ancora di più l'utente al prezzo di lancio secondo me questo smartphone soffre troppo della concorrenza con le giuste offerte nei prossimi mesi chissà che non possa essere un'interessante scoperta per qualcuno se questa recensione vi è piaciuta io vi invito ad iscrivervi al nostro canale attivare la campanella delle notifiche grazie per averci seguito fino a qui un saluto da Emanuele Cisotti per Android World punto in Grazie a tutti Grazie a tutti